Ciao a tutti amici di corsidigrafica.info Come va? Spero tutto bene, io sono sempre Alessandro e anche oggi andremo a vedere un nuovo video tutorial Oggi andremo a vedere questi strumenti per il fotoritocco, quindi strumento pennello correttivo e anche lo strumento toppa Vi farò vedere anche come funziona lo strumento timbro clone e poi basta Già questi strumenti sono sufficienti per andare a correggere l'imperfezione sulla pelle E il risultato che andremo a ottenere oggi è questo qui, partendo da una fotografia come questa Quindi andremo a rimuovere queste imperfezioni brufoli o come ne vogliamo, quello che sono Che sono qui, qui Qui andremo a tirar via anche un po' il punto luce che c'è qui Rimuovere le occhiaie E queste piegature qui dalla bocca Una volta fatto questo come passo successivo andremo a creare una pelle un po' più morbida Quindi andremo a rimuovere questi pori molto evidenti In questa maniera qui Che naturalmente io vi farò vedere molto velocemente come si fa Lavorandoci sopra si ottengono risultati migliori Dopodiché andiamo qui nella parte degli occhi Andremo ad aggiungere il verde, questo alone di scuro qui sotto E andremo a cambiare il colore degli occhi molto velocemente E andremo anche a dare un tocchettino di abbronzatura a questa ragazza Ok, togliamo tutto, partiamo da qui Duplico la mia immagine per farvi vedere da come sono partito Quindi come prima cosa vado a utilizzare lo strumento pennello correttivo al volo Vi ricordo che il tasto shortcut è J E vi ricordo che per muoverci all'interno degli altri è shift J Quindi partiamo con questo strumento qua Assicuriamoci che nella barra delle opzioni sia in corrispondenza per vicinanza Questo vuol dire che va a prendere i colori dei pixel che stanno lì vicino Zoomiamo vicino Premo J E semplicemente cliccando così Lui mi rimuove già il punto Una magia, sembra proprio di sì E questo è Photoshop CS5 Questa è una nuova funzionalità di Photoshop CS5 Avviciniamoci anche qui Ok Facciamo un coppetto anche qui Qui Ok Quindi vediamo Siamo andati a togliere queste imperfezioni che avevamo qui Semplicemente con questo strumento Quindi strumento pennello correttivo Con questo strumento possiamo semplicemente togliere queste cose qui E ora andiamo a vedere anche quest'altro strumento Che è lo strumento pennello correttivo Che diciamo è molto simile Però per utilizzarlo abbiamo bisogno Adesso vado a rimuovere questa parte di ciglia qui E si utilizza premendo Alt Quindi andiamo a selezionare il nostro strumento Pennello correttivo Premiamo Alt Ci esce il mirino Scegliamo la parte che vogliamo campionare Io in questo caso premo qui E poi vado qui E facendo così Lui mi rimuove Come possiamo vedere La parte di ciglia Quindi faccio ancora Alt Metto qui Ecco qua Il risultato in questo caso era meglio utilizzare lo strumento pennello correttivo Però era per farvi vedere come funziona anche quello Dopodiché utilizziamo lo strumento toppa Per andare a rimuovere queste occhiaie Lo strumento toppa funziona così Duplico un attimo questo per farvi vedere ancora velocemente Funziona simile allo strumento pennello correttivo Io seleziono la parte interessata In questo caso voglio rimuovere questo brufolo E mi assicuro di mettere il rattoppo su origine Una volta selezionata la parte che voglio andare a rattoppare La sposto semplicemente sul punto In cui non c'è O che voglio far sì che E sostituisca la parte selezionata Se io facessi ad esempio così con destinazione Non farei altro che portare il brufolo Un po' dappertutto Ok? Quindi utilizzeremo questo strumento toppa per andare a rimuovere le occhiaie Come abbiamo fatto in questo caso qui Semplicemente facendo così Seleziono la parte che voglio andare a modificare Una volta che è modificata vado ora Torno sul mio livello Abbasso Mi assicuro di mettere origine Abbasso e lo porto un po' qui dalla guancia Ecco qua Facendolo un po' più volte Ecco qua come abbiamo Ok? Come abbiamo rimosso questa parte Lo facciamo anche di qua Più sarete precisi meglio verrà Quindi io ora faccio così E ecco come ho fatto A rimuovere Che sono molto simili queste due Ora ho lavorato un po' più su questa qui Comunque basterebbe andare qui Magari ancora con lo strumento Adesso lo strumento pennello correttivo Semplicemente facendo un po' così Clicco più volte Fino a quando non ottengo Il risultato voluto Ecco qua Anche in questo caso qui Vado su il nasone E faccio così Per rimuovere addirittura Del tutto il punto luce Quindi abbiamo visto Come con questi due semplici strumenti Possiamo andare a rimuovere Le imperfezioni della pelle In questa maniera Ora passiamo allo step successivo Che è quello di andare ad ammorbidire Questa pelle Come possiamo fare? Semplicemente Duplico questo livello Una volta che l'ho duplicato Vado a creare con il filtro Sfocatura E creo un controllo di sfocatura Allora l'immagine originale è così Ora per andare a Ok Supponiamo che già così vada abbastanza bene Lo mettiamo così Così si vede bene a modo 1 e 1 Anche 1 1 e 3 Ok Ora l'immagine risulta tutta sfocata Però la pelle è più liscia diciamo Ok? Rispetto a prima Bene Ora semplicemente andiamo a creare una maschera Qui sopra E come al solito Con il nostro pennello Utilizzando il colore nero Andiamo a rimuovere Le parti che ci interessano Le parti che vogliamo che risaltino Quindi in questo caso Gli occhi Come prima cosa La bocca Ok I capelli proprio non ci interessano Quindi possiamo fare Una cosa così Facciamo poi sempre in tempo dopo Sistemare il tutto Magari abbassiamo anche un po' l'opacità del pennello Per andare a lavorare nella zona del naso Per far sì che risalti Un po' di più Poi naturalmente Come in questo caso Ho abbassato l'opacità Anche qui andremo a abbassare un po' L'opacità Così sarebbe nullo Andiamo piano piano A vedere Ecco Bene Anche in questa maniera Abbiamo ridotto La porosità della pelle Questi sono strumenti molto veloci Sono le basi proprio del fotoritocco E vi faccio vedere Come fare Dopodiché ho creato questo alone Sul Sugli occhi Semplicemente per farlo Non ho fatto altro che E creare un nuovo livello Prendere il mio pennello Con il nero Aumentando Faccio semplicemente così Anche in questo caso Gli strumenti che usiamo Sono sempre gli stessi Vado in filtro Faccio sfocatura Ancora una volta Filtro che abbiamo già visto Più e più volte Faccio ok Ok Una volta fatto questo Lo mettiamo su Luce soffusa Ok Ora l'ho fatto molto velocemente Creiamo ancora una maschera E andiamo a rimuovere Le parti che non ci interessano Quindi qui dall'occhio Comentiamo Ora Faccio un po' più veloce Per farvi capire Semplicemente Come fare l'effetto Quindi se noi facciamo così O facciamo così In questo caso L'avevo fatto solo sotto Ma noi poco importa Perché noi facendo così Con la maschera Possiamo andare a rimuovere Le parti che non ci interessano Ecco qua O addirittura Possiamo abbassare un po' l'opacità E andare a rimuovere così Ok Dopodiché Andiamo a creare questa parte Di verde sopra gli occhi Ancora una volta Vi faccio vedere molto velocemente Come si fa Creo ancora un'altra volta Il mio livello Seleziono un colore Ad esempio prendo il viola E vado Metto 100 E vado a fare semplicemente Questa cosa qui In questo caso Facciamo così Ok Quindi per creare Questo effetto qui La prima cosa che dobbiamo andare a fare Anche in questo caso È passare da normale A luce soffusa E già Otteniamo un risultato Poi Naturalmente Con l'effetto della maschera Ancora una volta Creiamo La nostra maschera Pennello E Abbasso un po' Qui Volendo Possiamo fare così Ok Andare a sistemare meglio qua Naturalmente Come già sapete E volendo Potremo andare a utilizzare Lo strumento gomma Per cancellare Un po' Le parti che non ci interessano In questo caso Senza voler ho lavorato sulla maschera Però dovremmo farlo Su questo livello qui Ok Come possiamo vedere Io mi trovo bene con Le maschere E i pennelli Quindi Utilizzo questa tecnica Solitamente Poi se vedo che È troppo Forte Il colore Come dicevo prima Semplicemente Con il pennello Abbasso un po' Posso fare una cosa del genere O addirittura Vado ad abbassare L'opacità direttamente Qui Bene Quindi qua abbiamo Abbiamo scelto Un colore diverso Naturalmente Dopo Così facendo Possiamo Semplicemente andare qui Con immagini Se vogliamo cambiare il colore Fare regolazione Tonalità Saturazione Come già abbiamo visto Questi strumenti E cambiare il colore Come vogliamo Ok Aumento la saturazione E possiamo andare A intervenire Ad esempio In questa maniera Aumentare un po' più la luce Magari O diminuire Va come Più ci aggrada Bene Una volta fatto questo Non facciamo altro Che andare a creare Gli occhi verdi Per creare gli occhi verdi Sapete già Come funziona È in modalità Sovrapponi Io non ho fatto altro Che utilizzare il colore verde E poi Andare a fare Il sovrapponi Quindi mi metto qui Creo un livello In questo caso Magari uso il viola Aumento La opacità Ok Questa è una tecnica Molto veloce Giusto per vedere Le basi Perché fare il fatto ritocco Non è una passeggiata Bisogna un attimo Soprattutto In base Al In base A quello che vogliamo ottenere Quindi una volta che ho fatto Sovrapponi Gli occhi diventano Diventano rossi In questo caso Perché abbiamo utilizzato Il viola Se io Voglio Posso andare A provare Altre Tipologie Ma io Utilizzo sempre Il sovrapponi E male che vada Faccio così E utilizzo Lo strumento Sempre tonalità E saturazione Questo qua In modalità Non distruttiva E posso andare A modificare Il colore Come voglio O abbassare La saturazione Ok La luminosità Se vogliamo O addirittura Fare Colora E cambiare Il colore Da così Questo strumento L'abbiamo già visto Non sto a rispiegarlo Ora Lo lasciamo Così Verde Bene Già ci siamo avvicinati Parecchio risultato Iniziale Quindi L'ultima cosa Che ci rimane da fare È creare Questa E Questo livello Di regolazioni Con le curve Per creare L'abbronzatura Quindi Non faccio altro Che andare qui Creare Un livello Di curve Abbassare Leggermente E Come possiamo notare Già Prende il colore Ancora una volta Con il pennello E andare A cancellare Le cose Tipo qui Sui capelli Che non ci interessa Anche qui E soprattutto Qui dai denti Che sono le parti Che devono venire Più in risalto Di denti Gli occhi Ecco notare come si vede Il rosso Avendo fatto una cosa Molto veloce Però I passaggi Sono questi Dovete soltanto Allenarvi Potete sempre tornare Qui poi Sul Sull'occhio E sistemarlo Ok Allora Vediamo un attimo Questa qui E quella Attuale Faccio Un'altra cartelletta Con Prima Modifica Per farvi vedere Il risultato Che Bene o male Sarà identico Ora Qua i capelli veri Dopo andiamo a vedere Quindi Questo era Il primo risultato Mentre il Secondo risultato È Così Non abbiamo fatto altro Che Modificare questo colore Con un altro Ok Quindi il Risultato Pressoché È identico Nel mio caso Qui Ho aggiunto Questi capelli verdi Quindi come ho fatto Solita cosa Con il pennello Ho pitturato Il Il mio livello L'ho messo su colore In questo caso Perché Vediamo un attimo Lo facciamo un attimo Anche in questo caso Ne facciamo un altro Facciamo così Aggiungo un livello Lo metto già in modalità colore Poi prendo Il colore Ad esempio Prendo l'azzurro E inizio a pitturare I capelli Di azzurro Ok Facciamo una cosa Un po' veloce Ecco qua Ecco qua Bene Naturalmente Si potrà mettere A posto In un secondo momento Qui Facciamo immagini Regolazione Andiamo ancora in tonalità E saturazione E anche in questo caso Semplicemente Clicchiamo su colora E voilà Possiamo diminuire L'opacità Se vogliamo Cambiare il colore Direttamente Ok Molto bene Ok Quindi abbiamo visto Gli strumenti Per creare Il Queste sono le basi Del fotoritocco Naturalmente sul blog Io nei mesi Posterò Cose un po' più avanzate Però questo Già Vi sarà Più che utile Per ritoccare Alcune delle vostre Immagini Va bene Spero di essere stato chiaro Se ancora qualcosa Non è chiaro Scrivetemi pure Cercherò Di delucidare Le vostre Domande Io vi saluto Ciao Dalle Ciao 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 Ciao